Questo è il tempo di lavorare duramente, lavorare fortemente e non riposare e non prendere cose in modo facile. Generalmente gli italiani piacciono fare le cose con calma, però adesso bisogna lavorare duramente. Quindi mentre venivo qua, poi precedentemente ho visto crollo, diversi casi sono crollati, diversi palazzi industriali sono crollati. Ho sentito veramente un profondo dispiacere per questo. Per cui io anche in passato ho visitato tanti altri posti dove ci sono stati disastri naturali e ho sempre consigliato alla gente di guardare futuro, non ripensare ancora e ancora pensando di cose belle, oggetti mobili, belli che sono stati persi, quindi rattristire nuovamente, ma bisogna proprio pensare il futuro. More determination. Rebuild your new home. It's not proper. Visitor, come. Visitare il muro che dovrà essere avvenuto dei disastri naturali, ma non vuoto, non è bello. Nei prossimi giorni vi farò una donazione di altri 50.000 dollari. Grazie. 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 Grazie.